Un saluto a tutti da Genova. Siamo in Piazza De Ferrari, in questa puntata vi parliamo di un tema importante, sempre più attuale, quello del bullismo e del cyberbullismo. Vedete alle mie spalle il camioncino della Polizia Postale che in questi giorni sarà presente qui in Piazza De Ferrari per incontrare le scuole e sensibilizzare le persone a questo tema. Si tratta di una tappa, è un percorso itinerante, saranno 47 le tappe sul territorio nazionale. È un tema importante, dicevamo, quello del bullismo e del bullismo attraverso i social network. Certamente i ragazzi sono interessati, sono anche consapevoli di ciò che accade, ma forse non troppo. C'è bisogno di maggiore attenzione da parte loro, ma anche da parte dei genitori e in primis degli educatori che incontrano nelle scuole. Gli esperti ci dicono che oggi i ragazzi corrono il rischio di avere più amici virtuali e di frequentare di più il mondo virtuale piuttosto che quello reale. E quindi di incorrere anche nei problemi che il mondo di internet e dei social network appunto portano nelle case delle persone e nella vita appunto dei più giovani. Andiamo a sentire allora le voci degli esperti, dei funzionari, degli agenti di Polizia Postale, ma anche quella dei ragazzi che vivono ogni giorno a contatto con i social network. Andiamo dunque nel track della Polizia Postale. Una vita da social è la campagna della Polizia Postale che anche quest'anno torna a Genova per parlare di temi importanti, molto attuali come quelli dei social network e del cyberbullismo. Quanto è importante parlare di questi temi ai ragazzi e anche agli adulti? È fondamentale, è importantissimo. Il mondo digitale offre molteplici possibilità, però per navigare in sicurezza è bene conoscerne i rischi e soprattutto adottare anche delle buone norme comportamentali, a cominciare dal rispetto per gli altri. Oltre ai ragazzi hanno un ruolo fondamentale gli adulti, quelli che sono gli educatori, gli insegnanti, i genitori, che hanno il dovere di accompagnare questi ragazzi in questo mondo e di guidarli. Noi come Polizia Postale ogni anno da diverso tempo ormai abbiamo questa campagna Una vita da social che è rivolta ai giovani ma anche agli insegnanti e ai genitori proprio perché è importante in questo settore fare anche rete. In tutti questi anni di lavoro da parte sua come ha visto cambiare questo settore? Se possiamo dire cambiare o forse esplodere anche perché sta andando tutto molto velocemente per quanto riguarda i social. Sì, è un settore che è letteralmente esploso. I giovani ormai si dedicano costantemente al mondo digitale e consideriamo che ormai uno smartphone viene utilizzato anche da un bambino di 2-3 anni. Quindi è fondamentale e importantissimo cominciare sin da subito a guidare questi ragazzi. Quali sono le principali norme, ricette, tra virgolette, per stare attenti a questo mondo e che racconterete anche durante questa campagna? La norma fondamentale, dicevo prima, è quella di rispettare gli altri, assolutamente di non offendere, non dire cose che noi stessi non vorremmo sentirci dire. E poi bisogna stare molto attenti perché le amicizie che si fanno in rete possono anche essere pericolose. Non sempre chi c'è dietro uno smartphone è quello che dice di essere. Per cui una persona si può spacciare, ad esempio, per un adolescente, per un quindicenne e magari è un adulto malintenzionato. Questa poi è una regola che in realtà vale anche per gli adulti perché comunque il mondo della rete chiaramente ha questo rovescio della medaglia dove le potenzialità vengono sfruttate anche dal mondo criminale. I più giovani c'è una confusione tra i piani della realtà? I giovani spesso confondono un po' il mondo reale e quello digitale, nel senso che danno al mondo digitale lo stesso valore del mondo reale. A volte ci troviamo dinanzi a ragazzi che non hanno molti amici nel mondo reale, però per loro è importante e fondamentale averne tanti nel mondo digitale. Si leggono purtroppo a livello nazionale tanti casi di cronaca di ragazzi anche che si sono tolti la vita per problemi di cyberbullismo. La Liguria come sta? La Liguria non ha grossi problemi, è chiaro che il fenomeno esiste. Il problema a volte è farlo emergere perché un ragazzo vittima di bullismo e di cyberbullismo difficilmente lo racconta. È proprio per questo che è importante che gli adulti tengano gli occhi aperti e cerchino di cogliere dei segnali di malessere. Non c'è tanto sommerso. Sì, sì. Ecco, con queste campagne durante gli anni avete visto qualche cosa migliorare nel tempo? Noi ci troviamo sicuramente davanti a ragazzi che hanno delle grandi competenze informatiche, però spesso hanno una scarsa consapevolezza di quello che c'è dietro. Però ci troviamo comunque davanti a ragazzi che sono molto attenti a quello che diciamo, molto interessati e questo chiaramente ci fa piacere. Un'ultima domanda. La Polizia Postale può sembrare un ente lontano dalle persone. Oggi invece siete in piazza, lo siete spesso, però se ci fosse un problema si può telefonare alla Polizia Postale? C'è un servizio? Certamente. Noi consigliamo sempre ai cittadini quando c'è un problema, ma anche un semplice dubbio. Meglio fare una telefonata e risolverlo prima, perché poi a volte è difficile tornare indietro. Quindi ci possono chiamare in qualsiasi momento oppure mandarci una mail. Che casi vi arrivano? Com'è la situazione della Liguria secondo il vostro osservatorio? Diciamo che per fortuna la maggior parte dei casi sono casi di non particolare gravità. Questo non significa che l'attenzione della scuola e delle istituzioni non debba sempre essere molto alta, perché spesso non c'è la percezione della reale gravità e dell'impatto che il gesto di un compagno ha nei confronti della vittima di questo scherzo. Quindi i temi del cyberbullismo, come sappiamo, sono temi che sono ormai da qualche anno all'ordine del giorno, su cui la vigilanza deve essere molto ferma e soprattutto la formazione e la sensibilizzazione è molto attenta, perché spesso parliamo di bambini, di bambini anche molto giovani, che non hanno piena consapevolezza dello strumento che utilizzano. Questi piccoli casi come accadono? Si sviluppano nel tempo, quindi poi rischiano di arrivare all'attenzione anche dei dirigenti quando è troppo tardi, quindi è per questo che si fa prevenzione. Sì, soprattutto perché è un ambito spesso extrascolastico quello in cui si manifestano questi fenomeni, per cui io posto dei commenti sui social oppure invio dei video. È proprio per questo che la famiglia naturalmente, insieme alla scuola, devono creare quella rete di protezione intorno ai ragazzi e alle ragazze che li consenta di vivere in serenità la loro vita e la loro vita a scuola. I vostri uffici che iniziative fanno, che servizi hanno nei confronti dei ragazzi e dei genitori? Noi abbiamo attività formative e servizi di consulenza attivi tutto l'anno. Abbiamo un referente dell'USR che si occupa specificatamente di questioni che attengono al cyberbullismo, quindi c'è un input del Ministero molto forte nel dare attenzione e nel sensibilizzare su questi temi, quindi direi che insieme a tutti gli altri attori istituzionali c'è anche certamente il contributo del MIURO. Un attacco che arriva via social è spesso facile da denunciare rispetto a qualsiasi altro aspetto, e invece i ragazzi la sentono proprio come una cosa personale che può anche sfociare in qualcosa di grave. Questo vi preoccupa, visto l'andamento dei tempi? Sì, preoccupa noi come preoccupa tutti, nel senso che c'è un meccanismo per cui alcune volte la vittima di questi fenomeni di bullismo a sua volta si vergogna nel denunciare i commenti di cui è oggetto o gli atti che subisce, ma questo è sbagliato perché, come diciamo sempre, bisogna parlarne con la famiglia, bisogna parlarne con gli insegnanti perché rimanere da soli certamente non aiuta, non aiuta a affrontare questi temi che spesso per chi li subisce possono diventare molto pesanti dal punto di vista psicologico. Ha una vita da social, qui a Genova incontriamo anche Claudio Bagnasco che è un referente per questi aspetti che riguardano il bullismo e il cyberbullismo. Ci sono degli esempi concreti di iniziative che portate avanti attraverso le scuole e gli insegnanti? Sì, ci sono molti progetti che fanno capo alle singole scuole, in particolare ne volevo ricordare alcuni, ad esempio partirà adesso tra poco un progetto promosso da Rete Sicura Scuola che è un gruppo di scuole riunite in rete che fanno capo all'istituto comprensivo Molassana Prato. Questo progetto si chiama Comunico ed Educo ed è un lavoro di formazione e informazione, ma soprattutto di formazione di insegnanti e in modo che poi a cascata la formazione giunga a tutti, in particolare agli studenti e alle famiglie. Tutto questo per costruire insieme un ambiente, appunto la scuola, in cui ci sia il rispetto, in cui le relazioni abbiano valore, siano le buone relazioni, una protezione appunto contro il bullismo, il cyberbullismo e si costruisca veramente dei percorsi di educazione al rispetto che è questo il grande tema. Si diceva che grossi casi eclatanti a voi non arrivano, questo vuol dire anche che le scuole stanno facendo un buon lavoro e che sono il primo step d'incontro per i ragazzi che si confrontano con questo mondo? Certo, il ruolo della scuola è quello ovviamente innanzitutto di prevenire i casi eclatanti e di questo è importante perché appunto laddove c'è un ambiente che lavora, che è sensibile e che soprattutto che costruisce delle relazioni improntate al rispetto, i casi eclatanti non ci sono. Ovviamente laddove invece ci possono essere degli episodi, la legge 71 del 17 dà tutti gli strumenti per poter intervenire, ma il ruolo delle scuole come dicevo è fondamentale quello di formare, di creare un tessuto e soprattutto di mettere in relazione le persone perché appunto ci sia una forte prevenzione che impedisca casi sia di bullismo o di cyberbullismo, diciamo bullismo offline o online. Le scuole nonostante i gravi problemi strutturali, di personale, anche di fondi, riescono comunque a star dietro questi aspetti o si rischia che qualcosa scappi? Le scuole fanno tantissimo, questi a cui ho accennato, poi ce ne sono molti altri, ad esempio Generazioni con S che è un portale del MIUR molto ricco di strumenti, le scuole cercano di far fronte a tutto ciò che a loro compete, a tutto quello che hanno davanti. Innanzitutto ovviamente l'obiettivo principale è quello di aiutare i ragazzi nella formazione, nell'informazione, ma soprattutto nella formazione e nella crescita in cui appunto non ci siano episodi di prevaricazione, episodi di violenza, episodi in cui appunto l'altro non è considerato come un amico, un compagno ma qualcuno da attaccare. Ecco, su questo le scuole stanno facendo tanti, sono un presidio innanzitutto di umanità, questo è importantissimo, di legalità e di umanità e di rispetto. Purtroppo casi di bullismo e cyberbullismo ce ne sono tanti, lo vediamo anche a livello nazionale. Come persona che lavora nel mondo della scuola si sente preoccupato un po' da questa china che si sta prendendo? Sì, certo. Deve sempre preoccupare il fatto che ci possano essere dei casi in cui qualcuno soffre la violenza verbale, la violenza online o comunque qualche cosa dagli altri, questo deve sempre preoccupare. Credo però che, e forse questo mi preoccupa ancora di più, abbiamo perso la capacità di avere delle relazioni, dei rapporti, come dicevo prima, improntate al rispetto. Oggi parliamo di bullismo e di cyberbullismo. E' chiaro che alla radice c'è un deterioramento, un'aridità nei rapporti e questo è una cosa che ci deve preoccupare e la scuola può tanto perché la scuola nel vivere insieme, nel passare i nostri ragazzi passano giornate intere insieme, su questo si può costruire tanto e mettere un argine a questo. Se noi perdiamo la relazione tra di noi, costruiamo una società meno umana, una società in cui è più difficile, in particolare per chi è più debole, ma in generale per tutti. Comunque basta aprire un social a caso e c'è molta violenza, molto odio. Può esistere un bullismo indiretto, non diretto per forza alla persona, ma un odio così forte da rovinare un po' tutto? Il problema dell'odio è un problema grande, è che per tanti motivi, che non è semplice spiegare, comunque per tanti motivi diciamo che gli strumenti per compiere dei gesti, se non di odio ma anche di violenza, sono sempre più a nostra portata. Allora, a volte veramente uno strumento come tutti gli strumenti digitali, che potrebbero essere una risorsa importante per costruire insieme qualche cosa di bello e di educativo, tante volte rischiano di diventare. Alla radice, come dicevo prima, ci deve essere un'educazione, un'educazione che si basa sempre sul rispetto degli altri, questo è fondamentale. Ci sono a livello normativo degli aspetti importanti oggi che si possono mettere in campo per contrastare questi aspetti di bullismo e cyberbullismo? Ma sì, sono stati previsti appunto strumenti che consentono di contrastare più efficacemente questo fenomeno che è in grande diffusione, quindi ad esempio penso all'ammonimento che può essere fatto, quindi uno strumento estremamente efficace ma anche molto veloce che consente di intervenire subito. Ad oggi, soprattutto qui nella nostra zona, si riesce a contrastare questo fenomeno, secondo lei? Il problema è che è un fenomeno un po' nascosto, cioè quando abbiamo notizia di episodi interveniamo subito e devo dire che non sono stati moltissimi, però sicuramente è un fenomeno che c'è e che deve essere portato a uscire da questa ombra, da questa situazione di ombra in cui è collocato, uscire fuori e questa è un po' la difficoltà. Noi per questo abbiamo lanciato anche un'iniziativa che è un'app YouPoll che consente ai ragazzi attraverso uno strumento che è il telefono che loro usano ormai frequentemente di segnalarci casi di bullismo e probabilmente non avendo il coraggio e la forza di presentarsi in un ufficio di polizia e di dire ai genitori, ma anche conservando l'anonimato, anche casi che possono riguardare amici, compagni di classe. Anche noi in questi mesi abbiamo parlato di questa app, sta funzionando, che risultati sta dando? Ci sono arrivate molte segnalazioni che riguardano non soltanto il bullismo ma anche il consumo di stupefacenti, ci sono arrivate diverse segnalazioni sul consumo di stupefacenti, ma io sono convinto che l'uso più utile sarebbe quello di segnalare situazioni di bullismo, quindi mi auguro che possa avere anche una maggiore diffusione. A una vita da social incontriamo anche l'assessore regionale Ilaria Cavo, è importante incontrare i ragazzi perché è da lì che parte la prevenzione, già loro, anche così piccolini, hanno in mano gli strumenti della tecnologia. Io credo che sia un bel evento il fatto che questa campagna nazionale della Polizia Postale e della Polizia di Stato arrivi qui, proprio in Piazza dei Ferrari, con un bel track, un bel pullman, che insomma credo che possa divertire anche gli studenti più piccoli, il fatto di salire a bordo e di vedere da persone indivisa, di capire come si usano i social, le opportunità che ci sono, ma anche i rischi della rete, credo che sia un momento formativo importante per cui mi è fatto piacere esserci, anche perché questo progetto, una vita da social, è totalmente abbinato e complementare ai progetti che Regione Liguria ha voluto portare nelle scuole come SUN. SUN sta per Social Use of Network, quindi l'uso responsabile, smart dei network. Siamo stati nelle scuole, abbiamo formato più di 600 ragazzi, grazie sempre alla Polizia Postale, a professionisti, ad avvocati, spiegando loro davvero quali sono le responsabilità che si hanno nel momento in cui si detiene del materiale fotografico, si divulga e ogni azione sul telefono comporta una responsabilità e bisogna che anche i più piccoli lo sappiano. Il progetto che noi abbiamo portato nelle scuole ci ha confermato come all'inizio di questo progetto le risposte che gli studenti davano su comportamenti che bisogna tenere erano sbagliate, quindi ha dimostrato il progetto come fosse necessario un intervento e poi alla fine anche diciamo il salto formativo che è stato fatto e soprattutto i docenti ci hanno detto nel 42% dei casi, ovviamente un campione, che hanno avuto contatto con studenti che hanno avuto problemi nell'approccio ai social e quindi è giusto esserci, dare messaggi non allarmistici ma chiari. Questo è un momento importante, abbiamo invitato la Polizia di Stato anche al Salone Orientamenti, il sogno che credo si possa realizzare è che questo bel pullman, bel camion ricco di messaggi arrivi anche al Salone Orientamenti il prossimo novembre nell'area del Porto Antico, credo che possa essere un grande messaggio per il flusso di ragazzi che ci sono e che salendo a bordo possano avere qualche input in più. Abbiamo intervistato dei ragazzini, ci sono sembrati comunque attenti e consapevoli, è una bella risposta da parte dei bimbi della Liguria. Ma i bimbi sono fantastici perché noi sono delle spugne e è chiaro che sono consapevoli, è chiaro che si fanno incuriosire, è chiaro che un'ora qui sopra vuol dire molto perché in un'ora sono tantissimi i messaggi che si possono dare soprattutto quando sono ancora piccoli come erano i ragazzini di oggi. Ancora prima di accedere alla scuola elementare i ragazzini hanno già la possibilità di accedere a internet, ai social network e quindi a tutti i problemi che questo comporta. Ma i ragazzi sono consapevoli dei problemi a cui possono andare incontro, vigilano, i genitori stanno loro dietro, gli educatori insegnano che cosa vuol dire accedere a internet. Visto che oggi i ragazzi delle scuole genovesi hanno incontrato i funzionari della Polizia Postale proprio su questi temi, andiamo allora ad accogliere alcune voci per capire come si confrontano con il mondo di internet. Siamo con una scuola primaria di Genova che è venuta all'iniziativa Una vita da social e sentiamo alcune voci di questi bimbi che sono di quinta. Allora, avete il cellulare voi? La maggior parte sì, però io no. Tu non ce l'hai, però la maggior parte dei tuoi compagni ce l'ha? Sì. E cosa ne pensi del fatto di avere il cellulare o no? Secondo me bisogna incominciare a usarlo quando si comincia ad andare a scuola da soli, ad andare, insomma, ad essere un po' più indipendenti. Ma a te manca il cellulare, averlo, oppure no? No, non ne sento la necessità io. E tu invece? Io ce l'ho. Ce l'hai e come lo usi? Guardando i video, scrivendomi con i miei amici e divertendomi. Ti sembra uno strumento anche pericoloso il cellulare, anche il fatto di andare su internet oppure no? Un po'. In certi casi sì, ma se tu lo usi con il cervello, no. Cioè, è una cosa comunque che prima o poi tutti avranno, quindi... A che social sei iscritta? Whatsapp e basta, cioè... Comunque fai attenzione quando sei su internet, cerchi di farlo, insomma. Sì. Hai sentito di compagni invece che hanno avuto problemi o qualche paura, ecco, sul fatto di andare su internet? No, per fortuna no. E qui? Chi ha altri al cellulare? Io no, 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 l'anno prossimo però ce l'avrò. Lo chiedi ai tuoi genitori? L'anno prossimo sì, ma non mi importa tanto il cellulare. Internet lo usi anche dal computer oppure no? No, solo iPad, sulla televisione, ho YouTube e basta. Stai attento un po' ai siti dove vai? Sei seguito? Sì, sono seguito da mia madre e da mio padre. E tu? Io ho il cellulare. Vai su internet? Vedo solo video di YouTube che... Cioè, guardo cose che mi fanno imparare. Ah, bene. E poi scrivo con i miei amici. Ti fa paura andare su internet? C'è qualcosa che ti spaventa? Cioè, mi spaventa trovare dei siti pericolosi, ma io sto sempre attento e viaggio con mia madre su internet. Quindi chiedi sempre ai tuoi genitori? Sì, sì. Dimmi tu. Allora, io non ce l'ho il cellulare, però quando magari devo andare su internet, ci vado sul computer con la sorveglianza di mia madre. Sì? Questo è importante. Sei contento di questo? Sì, anche perché comunque quando magari mi metto un po' nei pasticci, lei spesso mi sa tirare fuori. Pasticci ad esempio? Non so, quando mi viene una cosa dove devo mettere la X, magari non so se metterla o no, perché magari faccio un pasticcio ancora più grave, non so. Lei magari me lo risolve. Però io gioco anche a un gioco che si chiama Brawl Stars, che bisogna stare attenti perché comunque un conto è se formi un clan con i tuoi amici di scuola, ma un conto, o magari anche di classe, ma un conto è se lo formi con dei bambini che magari non sai manco chi sono, ma visto che sono nel clan, cioè... Ecco, però sicuramente avere il cellulare e andare sui social è importante, ma fate anche delle relazioni vere, avete degli amici, questo è importante. Sì, sì, ovvio. Io metto il telefono e uso solo TikTok, ma non posto nulla, cioè tengo solo le cose per me, i miei genitori mi controllano e ho paura di andare su internet, ma infatti non ci vado tanto. Va bene, va bene. Allora, un'ultima domanda a Suor. Suor Anna. Suor Anna, che sta guidando questi ragazzi, naturalmente possiamo guardare la telecamera, per i bimbi, naturalmente abbiamo usato le precauzioni della privacy. Voi come scuola, anche come seguite questi ragazzi? Tanto questa mattina li avete portati a una vita alla social, però in generale che cosa fate? Cerchiamo di essere molto attenti, appunto, convocando anche i genitori, parlando con loro, rendendoli sempre più sensibili, anzi abbiamo invitato anche la polizia a postare la scuola, appunto, per rendere sempre più consapevoli i genitori, sì del gioco su internet, con i telefoni, ma soprattutto sulla responsabilità che hanno anche i bambini, i rischi che possono correre. Qui siete a una scuola primaria, il cellulare in classe a che età arriva già? Assolutamente no, nei casi particolari magari il cellulare viene consegnato alla docente al mattino per poi essere restituito all'uscita, assolutamente l'uso è vietato. Grazie e buon lavoro. Grazie mille, grazie. Grazie ragazzi, ciao. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Non so, tutto il giorno praticamente. Nel tuo caso? Io 3-4 ore al giorno almeno. Facendo cosa ad esempio, che cosa guardi? Beh, girando un po' su Instagram, guardando dei post. Video di YouTube? Anche sì. Voi avete, usate più il computer oppure il cellulare? Cellulare. Quindi l'accesso del cellulare è più diretto? Sì. Che cosa guardate? YouTube, Instagram, tutti i social e anche YouTube. Quante ore al giorno? Più o meno 6. Io 2 ore e mezza. Vi capita di incorrere in qualche rischio o qualche dubbio che vi appare anche dalle pagine che vi si trattano? C'è un esempio? Per esempio magari un post che viene pubblicato però ad altre persone non fa piacere, allora ci sono delle critiche sotto nei commenti oppure nei messaggi privati. Oppure? Oppure anche profili fake, tipo immagini non vere oppure insulti da foto. Vi segue qualcuno quando andate su internet? Non so, gli educatori, i genitori? No. Quanti anni avete? Quattordici. Quattro e quince. Quindi ormai siete liberi di andare, di navigare su internet? Sì. Ma qualche cautela voi la prendete? Cioè state un po' attenti? Sì, sì. Ad esempio? L'antivirus. E sui social appunto oggi si parla tanto di fake news come diceva il vostro compagno, gli odiatori, i famosi hater così. Voi state attenti a questo? Vi preoccupate? Cioè abbiamo il profilo privato ad esempio. Cioè decidiamo cosa fai a seguire. Ti sembra più sicuro? Sì, anche perché se non voglio far vedere le mie foto a un soggetto lo posso bloccare tranquillamente e lui non le può più vedere. Voi cosa fate ad esempio? Io vado a vedere prima il profilo se è vero effettivamente e anche le foto. Vi è mai capitato di sentire dei casi di cyberbullismo o di bullismo? Non penso, non mi ricordo. No. In tutto caso? Su internet. E che cosa ti fa pensare questo? È pericoloso. Sì, sì, è pericoloso. Nella vostra scuola si fanno iniziative per cercare appunto, come dire, di parlare di questo tema? Oggi ad esempio, sì. Oggi per esempio. Oggi. E casi invece di bullismo a scuola, non so, prendere in giro qualche compagno in maniera un po' pesante? Esiste, esiste perché nella nostra classe veramente ce n'è tanto bullismo. Senza fare nomi, ad esempio cosa ci puoi raccontare? Cosa accade? Cioè a volte qualcuno si picca, a volte si prendono in giro in continuazione. Insultano le madri. Minacciano anche. A volte essere rappresentante di classe è dura. Che cosa si può fare secondo te per contrastare questo? Parlare con loro e provare di mettere a posto questa cosa con loro e tenere a badda con loro. Ti sembrano però cose che accadono un pochino nella normalità o che possono prendere una piega preoccupante? Secondo me possono prendere anche una piega. Cioè perché? Essendo... Alla lunga, sì, dici. Sì. E voi siete capoclasse? Sì, noi due. Perché dicevi che è difficile? Perché soprattutto con la classe che un pochino fanno casino ma c'è dei bullismi, è difficile controllarli. Grazie ragazzi, allora buon lavoro e mi raccomando, state attenti sui social. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. In piazza De Ferrari a Genova c'è la campagna della polizia di Stato, della polizia postale, una vita da social. L'importanza è quello di stare attenti quando si va naturalmente nel mondo dei social network. Voi come li usate? A quali social siete iscritti, ad esempio? Allora, io prevalentemente Instagram uso, non ne faccio un uso abusivo, nel senso tutti i giorni, foto. Apro, guardo le foto che ci sono, qualche profilo, ma ecco, molto tranquillo, non ho questa tendenza a postare ogni due minuti una foto o ecco. In tuo caso? Io invece avevo sia Facebook che Instagram e poi appunto per questa probabilmente paura magari di essere un po' troppo esposti effettivamente, ho deciso di mantenerne solo uno perché due erano troppi sinceramente, già ci si espone nella vita di tutti i giorni perché si è controllati, cioè non possiamo far finta di niente, quindi ho deciso di ridurre solo un social Instagram. Mi sembra che il mondo dei social network stia diventando un po' pericoloso, che stia prendendo una deriva anche dal punto di vista dei commenti che vengono pubblicati? Sì, non solo quello, ma molta gente lo vede in maniera ingenua, in realtà non è da vedere così, bisogna tutelarsi. Siamo noi che poi ci esponiamo perché in realtà tutto quello che mettiamo, anche se lo cancelliamo, potrebbe rimanere. Quindi bisogna stare attenti a questo, cioè autotutelarci. Le precauzioni ad esempio prendete? Ma ecco, per esempio io noto, ora non è per criticare chi lo fa, ma ci sono molti profili che magari ostentano nel pubblicare la foto, sono foto particolari, con hashtag particolari, quindi da una parte poi c'è questo stupore nel commento sotto negativo, quando secondo me bisogna magari non andare oltre, non superare certi limiti e certe barriere. Si posta una foto molto normale, senza ostentare e senza poi soprattutto criticare il fatto che la gente commenti. Comunque ti esponi su un social network che è seguito da miliardi di persone e ti devi aspettare il positivo come il negativo. Oggi si dice ci sono i famosi leoni da tastiera e questo possono andare a colpire anche i giovani generazioni, infatti si cerca di incontrare i bambini. Assolutamente e bisogna soprattutto, ecco, bisogna in qualche modo essere forti con se stessi, cioè bisogna sempre pensare che dall'altra parte ci sono delle persone che si divertono a scrivere un commento negativo tramite un social network e bisogna in qualche modo cercare di fregarsene, in qualche modo non dare troppo retta, nonostante sia una tematica molto attuale di giovani anche che si tolgono la vita per questi tipi di commenti negativi, bisogna in qualche modo farsene scivolare addosso e per san sempre che dall'altra parte ci sono delle persone ignoranti. Vi sono mai capitati dei casi o di aver letto anche casi di cyberbullismo o comunque appunto delle derive preoccupanti con i social network? Sì, purtroppo sì, soprattutto all'estero. Diciamo che secondo me in Italia probabilmente viviamo leggermente di più la vita sociale rispetto ai paesi del nord Europa o stranieri in generale, quindi probabilmente non succede come fuori dalla penisola italiana. Però io dico che chi si espone deve anche capire un attimo che poi ne potrebbe pagare le conseguenze. Infatti io consiglio e non voglio assolutamente mettere ad esempio dove sono se pubblico una foto, perché quello è veramente il massimo se una persona ti vuole trovare o anche per strada o altro, mai mettere dove si è. Oggi la polizia di Stato ci ha detto che i ragazzini, ma già piccolissimi, due o tre anni, hanno già il cellulare in mano. Arrivano alle elementari che hanno già i social network. Nel vostro caso quando siete entrati in contatto con il mondo interno? Io relativamente, non tardissimo, avrò avuto forse alle medie, periodo delle medie, però parlo dei primi cellulari, quei motorola, proprio non esisteva Whatsapp, non esisteva Instagram, quindi era un classic... Il ritorno ai 14 anni? Esatto, 14-15 anni, i tipici sms, le tipiche chiamate, ma non esisteva tutto questo, ecco, social media, social network, non esisteva tutto questo. Io ho 18 anni con Facebook, piano piano poi è la solita droga, vuoi far vedere cosa fai, chi conosci, che sei più fortunato, che sei più felice, in realtà è uno schermo e poi ti stufi, più cresci più ti stufi. Esatto, confermo, intanto che Facebook io per esempio ce l'ho ma non lo uso praticamente più, ecco. Grazie alla vostra testimonianza. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, ciao. Questa mattina avete incontrato le scuole, anche bambini molto piccoli, le età a cui si può andare incontro ai rischi del mondo inter, del social network, del bullismo, cominciano insomma già da presto, già dall'elementare? Beh certo, iniziano da quando il bambino inizia ad utilizzare un dispositivo collegato ad internet, quindi assolutamente andrebbe educato già dai genitori ad un utilizzo consapevole, ad un utilizzo responsabile di questo dispositivo. Parliamo dei rischi, che cosa si può incorrere andando su internet? Ce ne sono tantissimi, ovviamente nell'immaginario del genitore il rischio è maggiore quello dell'adescamento che può avvenire online e purtroppo lo confermiamo, perché anche in piattaforme che apparentemente sono poco pericolose, quali i giochi, laddove sono presenti i chat, è attuale e purtroppo si verifica spesso la possibilità che vengano addescati da malintenzionati. Posso fare un esempio concreto, come accade questo? Come accade? Accade in genere appunto su piattaforme di chat, l'altro giocatore diciamo in medesima si impersonifica quale un minore, quindi quale un bambino, quindi mente sulla proprietà ed inizia a chiedere dati personali, inizia a chiedere numero di telefono cellulare, in modo da stabilire un contatto sempre più preciso con il minore e laddove dovesse riuscire ad avere il numero di telefono cellulare, purtroppo l'escalation è che riuscirà a chattare via whatsapp o via piattaforme di chat e quindi riuscirà ad avere sempre attenzioni più strette con la vittima. Attraverso il vostro lavoro qui in Liguria vi sono capitati dei casi particolari, com'è la situazione ad oggi? Sì, sia in Liguria che ovviamente su tutto il territorio nazionale anche noi abbiamo avuto casi di questo tipo, quindi di bambini adescati su giochi tipo Clash Royale, Clash of Clans, su giochi che possono essere quello che attualmente è più utilizzato, si chiama Fortnite, non dimentichiamo che lì c'è una chat e quindi succede quello che ho detto. E poi ovviamente queste sono le condotte che vedono i minori vittime, però possono essere anche aggressori, laddove vanno ad insultare, laddove vanno a cercare di entrare con password di compagni, quindi scardinare le misure di sicurezza, laddove vanno a fare finta di essere altri, quindi l'esempio tipico è quello del minore che fa finta di essere un professore, che fa finta di essere un compagno. Ovviamente tutte queste condotte sono in violazione di legge, quindi la sostituzione di persone, l'accesso abusivo al sistema informatico, la minaccia, la molestia, l'insulto, quindi la diffamazione, quindi tutte queste condotte danno sicuramente dei problemi con la legge. Questo è un peccato perché Inter è una grandissima opportunità e invece è molto pericoloso, questo è il rischio. Certo, quindi tipicamente il nostro slogan, lo vediamo anche dal titolo delle nostre slide, Internet è un'opportunità e non un pericolo. Sarebbe anacronistico dire non utilizzare Internet, assolutamente Internet va utilizzato, come dicevo prima, con consapevolezza, con rispetto, sapendo quelle che sono le regole, quelle che sono anche i limiti nell'utilizzo temporale, anche per non rimanere vittima di dipendenza. Quindi diciamo utilizziamolo anche con, a questa età, l'età che hanno i giovani, con spensieratezza, assolutamente, però sempre sapendo quelli che sono i limiti. Lei incontrando una classe ha fatto un esempio concreto, quello di far giocare ad esempio un proprio figlio poche ore alla settimana, la reazione non è stata il massimo, questo può preoccupare anche. No, diciamo che... Ha detto ma no, tre ore al giorno. Esattamente, purtroppo quando si vanno a mettere questi limiti, la mia, come dire, se ero simpatico non sono più simpatico. Però è un polso della situazione. Assolutamente sì, purtroppo lo vediamo, sia con i giovani che incontriamo, poi tra l'altro non parlo per sentito dire, perché ho anche in famiglia chi utilizza questo tipo di piattaforme e vuole utilizzarle sempre di più, quindi purtroppo è un problema cercare di far capire che non c'è solo il mondo digitale, ma c'è anche il mondo fisico, quindi anche dire gioca all'aria aperta, oggi è una bella giornata, vai a giocare all'aria aperta, anche il contatto fisico con i tuoi coltanei, un abbraccio, anche uno scontro, perché no? Uno scontro di gioco, stai giocando a pallone, stai giocando a qualsiasi altra attività sportiva, ci vuole anche quello, non limitiamoci solo al mondo digitale perché altrimenti non ne usciamo. Stai tanto tempo a giocare, ad esempio, comunque su Inter, dal vostro osservatorio, che rischi poi comporta, giovani studenti? Rischi che sono legati al fatto che io perdo di vista la realtà, perdo di vista la realtà. Per me diventa reale quello che è nel mondo digitale. È vero che è reale perché tutto quello che noi facciamo ha delle conseguenze quando siamo nel mondo digitale, però è altrettanto vero che perdiamo la maggior parte di quelli che sono i feedback e di una comunicazione quando siamo su Internet, perché non vediamo l'interlocutore, non siamo in grado di valutare i suoi sentimenti, quindi di calibrare i miei messaggi in base al feedback di quella persona. Poi oltre alle altre parole più concrete sul gioco, su Internet, ne avete usato un'altra che è quella di rispetto. Forse i genitori dovrebbero partire da lì per cercare di far uscire i ragazzi dalla realtà virtuale? Sì, diciamo che il rispetto e consapevolezza e soprattutto anche che non ho usato stabilire... Su Internet è impossibile però un'empatia con l'interlocutore, quindi immedesimarsi con l'interlocutore. Su Internet è impossibile perché non abbiamo il feedback del suo sentimento, dello suo stato d'animo, perché non abbiamo un'interazione fisica. È quello che ci manca su Internet. C'è il rischio che i ragazzini che oggi vanno appunto su una piattaforma chat e magari usano parolacce, insulti o minacci, non siano poi degli odiatori, diciamo da adulti che utilizzino i social network in modo sbagliato? Beh certo, se sin da piccoli si permettono determinate cose, senza intervenire, è ovvio che crescendo aumenteranno quelle situazioni. Quindi sì, il cosiddetto fenomeno degli haters, piuttosto che non delle fake news, bisogna educare i giovani già da questa età ad un utilizzo consapevole. Siamo in conclusione. La cosa bella è stata la possibilità di aver intervistato dei funzionari, delle persone che lavorano in primo piano con il problema del mondo Internet e dei rischi che riguardano il bullismo e il cyberbullismo. Però abbiamo raccolto anche la voce di tanti giovani e di persone che appunto hanno a che fare ogni giorno con le possibilità che si trovano appunto sulle piattaforme Internet. Quindi speriamo di avervi dato come dire un panorama di idee, di spunti, di riflessione sui quali appunto poter ragionare. Non soltanto ragazzi ma naturalmente anche adulti, educatori, insegnanti e genitori. La piazza del Ferrari è tutto, con il direttamente su ci ritroviamo lunedì prossimo. Arrivederci. Grazie a tutti.